Casi dall'ora in poi Giovanni sembra andare in crisi, consente sia a Tommaso Mosca sia a Patrick Curiala di guadagnare una posizione, c'è anche una bella lotta tra Alex De Giacomi e Basciaro Mardini per quanto riguarda la Michelin Cup e anche tra Alex De Giacomi e Marco Cassà e in questo modo Alex il pilota di Brescia va a prendersi il primo posto in Michelin sul pilota di Roma che sembra essere in crisi ma poi si recupera verso la fine, qui c'è il debutante del mondo del campo, Paolo Di Conto che va nella sabbia rovinando lo splitter della propria G3 Cup, qui Luico Laurini che dà un colpettino alla Zarevic e lo spedisce in testa a coda, ultime battute con Marshall Mardini che in fila Marco Cassara, Simone La Quinta che va a vincere tranquillamente e poi la Boratona, prima per il secondo posto tra Diego Bertonelli che regola General Baurai e poi guardate, Tommaso Mosca che sembrerà l'alentare leggermente padre Kujala e questo permette a Giovanni Bertone di passare per nove millesimi il pilota finlandese che precipita in sesta posizione, ma abbiamo Camilla Rocchi con Simone La Quinta, a te Camilla. Simone prima vittoria a una Firen Porsche